Tutto quello che non sapete su Rose Hambury e sulla sua non relazione col principe William. Ciao a tutti, sono Elle e benvenuti al mio canale. Siccome sarete stufi delle congetture, concentriamoci sui fatti, tutti fatti relativi ai personaggi di questa complicata storia. Innanzitutto, chi è Sarah Rose Hambury, marchesa di Chumley? Rose nasce il 15 marzo del 1984, figlia di Timothy Hambury, ora creatore di siti internet, e Demma Longman, stilista di moda. La nonna materna di Rose, Lady Elizabeth Lambert, è molto ben inserita nella nobiltà inglese. Come figlia del decimo conte di Cavana, Lady Elizabeth è una delle damigelle d'onore al matrimonio della regina Elisabetta col principe Filippo nel 1947. Pare che Lady Elizabeth fosse un'amica di lunga data dell'allora principessa Elisabetta e che per questo fosse una delle due sole damigelle non royal del gruppo. La regina poi farà da madrina a una delle figlie di Lady Elizabeth, Caroline Langman, che infatti ricorda di aver frequentato Buckingham Palace senza rendersi conto al tempo di quale onore fosse. Alla morte della nonna di Rose nel 2016, la regina mandò alla famiglia un messaggio privato di condoglianze. Dal lato materno, quindi, la famiglia della marchesa di Chumley era molto ben inserita, ma anche la nonna paterna di Rose, Sarah, da cui la nipote ha preso il primo nome, era figlia di un baronetto. Per la precisione si trattava di Sir Henry Birkin, un pilota da corsa. Non è quindi strano che sia Rose che sua sorella Marina si muovano nel circolo nobiliare britannico. Crescendo, Rose frequenta l'esclusiva scuola di Stowe nel Buckinghamshire, 38.000 sterline all'anno per la frequenza. In seguito, Rose si laurea alla Open University, istituto che si specializza nelle lauree prese a distanza. All'età di 23 anni, Rose viene ingaggiata come modella dalla Storm, l'agenzia cult di modelle che ha scoperto talenti come Kate Moss, Cara Delevingne e Behati Brinslow. Nel 2005, lei e sua sorella minore vengono fotografate accanto all'allora primo ministro Tony Blair a Villa Centinale, in Toscana. È lì che, a quanto pare, avviene il primo incontro con David Roxavage, aspirante regista per Passione e Marchese di Chamblee, nel sangue. La relazione tra i due però inizia solo nel 2006, quando Rose ha 22 anni e David 45. Ma forse, forse lei non la prende così sul serio, perché nel 2007 si mormora di un editorialista dello spectator, tale Taki Teodora Cupulos, perdonate la pronuncia, che la porta con sé alla festa estiva del suo giornale, nella speranza di presentarla all'allora primo ministro Gordon Brown come la futura signora Taki, speranza che naufraga prima di nascere. Prima dell'incontro con David si mormorava che Rose fosse stata fidanzata con Fred, visconte Lempton, e che sia andata persino a conviverci. Perché sto tornando indietro nel tempo? Avete presente la sorella di Rose, Marina? Sarebbe in quella casa che la minore delle Hamburi incontra per la prima volta il padre del fidanzato della sorella, tale Ned Lempton, conte di Durham, un uomo di circa 20 anni più grande di lei che è stato ministro della difesa e possiede villa centinale, sì, quella della foto con Tony Blair. Marina inizia a uscire col conte a Natale del 2009 e in soli tre mesi lui le chiede di sposarlo. Marina diventa così contessa nel gennaio del 2011. Attenzione però, la giovane Hamburi ha solo preso esempio dalla sorella maggiore Rose. Infatti il marchese David, prima di incontrare Rose, era rimasto scapolo a lungo, ma in passato era uscito con modelle come Lisa Babusha e Sabrina Guinness, nonché con l'attrice francese Isabella Gianni. Ma con Rose scocca la vera scintilla e nel giro di soli tre giorni, a giugno, i due annunciano il fidanzamento che Rose è incinta di due gemelli e addirittura che la coppia si è già sposata alla Chelsea Town Hall. A quel punto Lord Chamblee ha quasi 49 anni ed è il Lord Gran Ciambellano d'Inghilterra, l'uomo che cammina dietro alla regina durante l'apertura del Parlamento. La sposa, Rose, di anni ne ha appena 25 e in quel periodo lavora come assistente del ministro ombra della scuola Michael Gove. Nel giro di poco tempo Rose purtroppo è costretta a lasciare il lavoro a causa della nausea da gravidanza. Nell'ottobre del 2009 viene ricoverata in ospedale perché si teme che i suoi gemelli possono arrivare addirittura con tre mesi di anticipo. E così è. Il 12 ottobre nascono due maschietti, Alexander Hugh George e Oliver Timothy George, pronunciato all'inglese. Il parto è cesareo e questo pone un piccolo problema per la coppia di Marchesi. Chi è il vero primo genito, colui che è destinato a diventare l'ottavo Marchese di Chamblee ed erede della bellissima tenuta di 106 stanze di Autumn Hall? Rose e David per decidere si basano sul peso del bambino. 220 grammi in più trasformano Alexander nel conte di Roque Savage e suo fratello Oliver in un mero lord. Babbini fortunati, giusto? Nati negli agi e nella ricchezza? Non proprio. Quanto meno al Marchese non si definisce ricco ricco. Nel 1990, alla morte del padre a 30 anni, David ha ereditato 118 milioni di sterline e ben due tenute, ma nel 1997 racconta al New York Times che la gente non ha capito che gran parte delle sue ricchezze è vincolata a terreni, opere artistiche e fondi fiduciari. David Roque Savage si definisce come un curatore di tutte queste ricchezze, una cosa che in fondo gli piace. A dimostrazione che a volte il Marchese manca di liquidità, nel 2016 è costretto a vendere un dipinto di Hans Holbein alla National Gallery per 10 milioni di sterline. Nel mentre cosa fa la moglie Rose? Rose non ha mai completamente abbandonato il suo lavoro di modella, anche se, come avrete capito, non è mai stata una top model. Il suo percorso ricorda un po' quello di Beatrice Borromeo, anche lei brevemente prima modella, poi giornalista impegnata e infine moglie di un nobile. Rose ha le connessioni giuste, un fisico longilineo e il tipico volto della donna nobile inglese, non bellissimo ma con quel non so che di aristocratico. Le sue fotografie e collaborazioni più significative risalgono infatti a quando è già Marchese di Chamblee. Nel 2016, per esempio, posa accanto all'attrice Amanda Seafritt. Sempre nello stesso anno, incinta della terza figlia, Rose è una delle protagoniste di un servizio del magazine W sulle Hot Bohemians che celebrano lo splendore della vita di campagna. Assieme a lei ci sono l'attrice Suki Waterhouse, la designer Margherita Missoni e Debbie Von Bismarck. Insomma, uno di quei servizi per far capire alle popolane la vita delle moderne lady dei nostri giorni. Ma dicevamo della terza figlia di Rose, David. Iris, Marina e Alina nasce nel marzo del 2016 e le viene assegnato il titolo di cortesia di Lady. Come vive la famiglia in quel periodo? I Marchesi di Chamblee fanno parte dei cosiddetti Tarnip Toffs, l'aristocrazia dell'esclusiva campagna del Norfolk. Una giornalista del Times cerca di spiegare il concetto. A Londra non si vive a più di due metri da un ratto. Ecco, nel Norfolk succede lo stesso con gli aristocratici. Cos'ha di particolare questo angolo bucolico d'Inghilterra? È quello in cui sono andati a vivere gli allora duchi di Cambridge, il principe William e sua moglie Catherine, che hanno preso residenza a Dunman Hall. È proprio l'area della residenza estiva della famiglia reale Sandringham. La coppia e i Marchesi sono vicini di casa, separati da appena 5 chilometri di distanza. Per il principio sopraccitato è inevitabile che i quattro si incontrino, soprattutto perché i Chamblee sono tra i più importanti nobili dell'area. Pare che i loro figli, i gemelli Alexander e Oliver e il principe George, nato nel 2013, giochino insieme. Così come poi le bambine, Charlotte e Iris, quasi coetane. Un'altra fonte più autorevole però, poi saprete chi, sostiene che le due famiglie abbiano visitato le rispettive case al massimo tre volte e che non siano mai state particolarmente vicine, né amiche. Nel 2016 vengono scattate le uniche fotografie che vedono Rosie interagire con i duchi di Cambridge. Lei e Kate sono entrambe patroni dell'associazione ITCH, East Anglia Children's Hospices, e la Marchesa ha organizzato una festa di gala a Autumn Hall. Nello stesso anno la tenuta ospita anche un evento equestre a parte le famiglie, a cui Kate partecipa coi figli. Fino al 2019 si può presumere che la loro conoscenza continui come quella tra normali vicini, per quanto Kate e Rose siano due donne con background molto diversi. L'una profondamente borghese e l'altra inserita fin dall'infanzia nei circoli aristocratici. Alla fine del 2018 sorgono voci vaghe scambiate in scene private di un dissapore tra Kate e Rose, che nel marzo del 2019 il Daily Mail riporta in un trafiletto, parlando più che altro di una gara tra le due giovani signore. Richard Kaye, editorialista del tabloid, poi dirà che si trattava di voci malevole che sembravano mirate a danneggiare Kate. Il 22 marzo del 2019 Dan Wooten, che fino ad allora si occupava solo di celebrity gossip e non nello specifico della Casa Reale Britannica, pubblica su The Sun un articolo riguardante un litigio tra i duchi di Cambridge e in Chamlis, con Rose che viene definita la rivale rurale di Kate. L'articolo sostiene che il litigio fosse peggiore di quanto all'inizio si pensava. Secondo le parole di Wooten, il principe William aveva tentato di intervenire e fare da pacere, dato che lui e Kate se la intendevano bene con Rose il marito marchese. Ma Kate sarebbe stata irremovibile e avrebbe ordinato a William di escludere i Chamli dal loro circolo di amici. Il gossip corre, tutti vogliono sapere perché la pacata duchessa Kate ha iniziato a detestare la Marchesa Rose, ma nulla trapela. Nel giro di due giorni arriva una risposta della Casa Reale tramite l'editorialista Richard Kaye proprio sul Daily Mail. Kaye afferma che una fonte vicina alla famiglia, alcuni sostengono sia proprio William, avrebbe rivelato che la notizia è completamente infondata e che le parti in causa, i principi e i Chamlis, starebbero considerando azioni legali contro i giornali. Ma in assenza di dettagli su quale sarebbe l'argomento del litigio, sul momento i coinvolti starebbero semplicemente decidendo di ignorare l'intera faccenda. Nel sentirla per la prima volta, William e David avrebbero riso, sorpresi nel venire a sapere che si parlava di un litigio tra loro e le moglie. Il 26 marzo, quindi quasi due settimane dopo l'articolo di Wutton sul Sun, Giles Koren, un foodblogger che lavora per il giornale The Times of London e che sul suo account Twitter vanta la spunta blu, fa una battuta in merito al motivo della rivalità tra Kate e Rose rispondendo a un utente che chiede chiarimenti sulla questione. «Sì», conferma Giles, «è una relazione clandestina». «Non ho letto l'articolo di Dan Wutton, ma so della relazione». «Tutti sanno della relazione, cara». Lo stesso medesimo giorno, il blog canadese Lainey Gossip retwitta le parole di Koren, meravigliandosi che nessun giornale britannico stia andando più a fondo della cosa. Lainey Liu, la proprietaria del blog, specula. «Il marito di Rose è più vecchio, Rose è attraente e William è un reale. E tra i nobili, sapete, non è raro avere delle relazioni extra coniugali. Le voci di un'affair tra Will e Rose crescono. Per giorni le persone hanno bisbigliato della possibilità, ma nessuno ha voluto parlarne ad alta voce, fino a che…» Come prova, Lainey Liu riporta le parole di Giles Koren, che in realtà ha già cancellato il suo tweet. Lainey racconta che Giles è ben connesso nel mondo dei media. «E' anche un agitatore, uno che ha la reputazione di essere deliberatamente provocatorio e capace di accendere controversie». Insomma, la persona giusta per dire la verità su tutta questa faccenda. Perché mi sto focalizzando su quello che ha detto questa blogger canadese? Beh, non indovinerete mai chi è. Lainey Liu era una carissima amica di Omid Scobie, sì, il biografo di Meghan Markle. Al tempo era anche molto amica di Jessica Maroney, la best friend dell'epoca, sì, sempre di Meghan. State notando che questa Lainey è una delle prime, se non la prima, oltre oceano, a parlare apertamente di un'affare extra coniugale? Il 30 marzo un'altra blogger britannica, Nicole Cliff, twitta alcune sue speculazioni sulla faccenda, citando voci, forse Koren stesso, che parlano di una relazione clandestina. Nicole immagina che sia questo il motivo per cui Harry e William stanno litigando. Perché William avrebbe confessato tutto a Harry e il duca di Sussex lo starebbe biasimando per aver fatto a Kate ciò che il padre ha fatto alla loro madre Diana. Nicole dice molto chiaramente che si tratta di un suo editorializing, cioè di pure speculazione da parte sua, ma ormai è fatta. La macchina del gossip americano la prende in parola e si attiva. Il 4 aprile il magazine In Touch è il primo al mondo a mettere per iscritto in maniera chiara la notizia del presunto tradimento di William e racconta che, quando Kate ha chiesto spiegazione al marito, il principe ha riso, dicendo che erano tutte sciocchezze. La fonte di In Touch sostiene che ora Kate veda la sua amicizia con Rose in modo completamente diverso e che la sua fiducia in William stia vacillando. L'insider esprime una sua opinione. I Cambridge sembrano quel tipo di coppia perfetta che non può sbagliare, ma la realtà è che, come molte coppie che hanno i loro problemi, Kate e William non sono diversi dagli altri. Un'altra pubblicazione americana, Hollywood Life, racconta che Kate non crede ai pettegolezzi, ma ne è comunque ferita. Un giornale minore, il Globe, si inventa una versione molto più drammatica dell'intero confronto tra William e Kate, che nessun altro giornale riprenderà. Secondo il Globe, Kate, dopo aver saputo tutto, è scappata di casa da sua madre e si è chiusa in bagno, dove è crollata a piangere tra le lacrime per un'ora. La madre poi ha chiamato sia un dottore che il genero William, sgridandola al suo arrivo e poi facendolo scappare via tutto da solo. Per farvi capire l'attendibilità di questi giornali, riporto un altro rumor di quel periodo, sempre di Hollywood Life, secondo Queen Meghan, all'epoca di questi rumor scandalosi, supportò la cognata Kate perché era una persona leale e quindi stava ovviamente al fianco della famiglia. Peccato che dalle parole di Harry nel suo libro, ora sappiamo invece che Kate e Meghan non sono mai andate d'accordo e che non erano nemmeno amiche. Ora veniamo alla reazione della Royal Family. Il 9 aprile il Daily Beast racconta che il principe William sta mandando, tramite lo studio Harbott e Lewis, lettere di diffida ai giornali britannici, minacciando azioni legali nei seguenti termini. Oltre ad essere false e profondamente dannose, la pubblicazione di false speculazioni con riguardo alla vita privata del nostro cliente costituisce una violazione della sua privacy secondo l'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani. Il 29 aprile Nicole Cliff, la blogger britannica che era stata tra le prime persone a parlare chiaramente di un affaire, ritratta tutto sul suo blog. Dice di essersi vista citare come fonte della notizia su diverse pubblicazioni americane che la definivano giornalista britannica, cosa che lei non è mai stata. Nicole scrive infatti di essere una privata cittadina senza la possibilità di accedere ad alcuna informazione speciale sui reali. Chiude il post facendo gli auguri a Meghan, la sua preferita, affinché abbia un buon parto. Faccio notare che il fatto che fosse Nicole essere definita la fonte indica che non ce ne fossero altra disposizione, almeno fonti di cui si sapeva nome e cognome. Nel mentre pure Giles Koren ha ritrattato e lo fa in questi termini. Stavo scherzando, non ho e non ho mai avuto alcuna idea su faccende reali e non so chi sia o sia mai stata Rose Hambury. Il sang nel frattempo non si è affatto intimorire dalle minacce di William e pubblica altre speculazioni sulla vicenda. La fonte da cui le sto riprendendo è sempre il blog di Laini Liu, perché questi articoli ora sono tutti scomparsi, compreso quello iniziale, quello delle rivali rurali. Laini però è in missione e tiene a farci sapere che nel giro di una nottata il Sun ha cancellato uno dei suoi gossip più succosi, che aveva come fonte una persona amica di Rosa, che raccontava di come Rosa stesse prendendo malissimo l'intera faccenda e che aveva come unica colpa quella di aver formato una buona amicizia con i duchi di Cambridge. L'amica o l'amico, secondo il Sun, raccontava che era tutto iniziato perché Rose aveva cenato una o due volte con William nel Norfolk, mentre Kate non c'era. Ma Kate lo sapeva ed era grata che una buona amica e vicina come Rose stesse intrattenendo William. Rose poi era spesso sola a prendersi cura dei tre figli, poiché il marito era in giro per lunghi periodi per lavoro. Laini ovviamente sottolinea mille volte la parola intrattenere e si domanda se è stata l'amica di Rosa a volere che fosse rimossa la frase, per non danneggiare la Marchesa o se siano intervenuti i Royal per censurare il tutto. Ma chi è che sta scrivendo questi articoli sul Sun? Sempre Dan Wootten, che forse fa capire che i dettagli gli arrivano, tra le altre cose, pure dal fratello di Rosa, che sarebbe gay proprio come lui. Il fratello della Marchesa però a quel punto minaccia una querela. L'articolo iniziale, quello della rivale rurale, viene completamente cancellato dal sito di Sun, così come gli altri articoli che parlavano della questione. Se provate a cercare su Google non troverete nulla, la minaccia legale deve essere stata molto più specifica di quella inizialmente dichiarata. Oppure, come speculano i fan di Harry e Meghan, sotto c'è dell'altro. Infatti da aprile barra maggio 2019 circa, il Sun comincia a parlare male anche dei Sussex, così come Dan Wootten, che col tempo perde interesse nello spettacolare di William e Kate e inizia il suo percorso di osservatore Royal con critiche a Harry e Meghan. Secondo i sostenitori dei Sussex, il segretario privato di William, Christian Jones, avrebbe venduto story L su Meghan per evitare che Wootten si focalizzasse così tanto su William e Rosa. Wootten poi avrebbe iniziato a parlare bene di William e Kate, dimenticandosi del presunto affaire extra coniugale. A dimostrazione che aveva soffiate da un insider, sarebbe stato il primo a parlare della Maxit nel gennaio del 2020. Era forse a questo che si riferiva a Harry quando nel suo documentario parlava di accordi che la casa reale aveva stretto con la stampa per danneggiare lui e sua moglie e far andare via altre storie? Mi permetto di offrire una lettura alternativa della vicenda. Wootten magari ha anche iniziato ad avere delle soffiate su Harry e Meghan, ma potrebbe pure essersi reso conto che il rumor su William e Rosa non aveva la consistenza che lui stava inseguendo e quindi, continuando a parlarne, si sarebbe danneggiato da solo, non ultimo a livello legale. A supportare questa tesi c'è il fatto che i giornali vengono minacciati di continuo di querela. I Sussex per esempio hanno minacciato il Times e l'autore Royal Valentine Law, che poi in un suo successivo libro ha continuato a riportare le testimonianze di cortigiani che dicevano di essere stati bullizzati da Harry e Meghan. Né l'articolo né il libro di Valentine Law sono mai stati ritirati, a dimostrazione che quando ci sono le prove dei fatti non basta la minaccia di azioni legali a scoraggiare la stampa. Ma torniamo a Rose, William e Kate, perché è una delle convinzioni più radicate tra chi crede alle speculazioni su una relazione tra Rose e William è che i tre non si siano mai più incrociati, neppure per sbaglio, a dimostrazione che Kate voleva tenersi il più lontana possibile dalla Marchesa. Ma non è andata proprio così. Nel giugno del 2019, quindi quando i pettegolezzi ancora impazzavano, si è a Rose che Kate hanno partecipato alla cena di stato in onore del presidente Donald Trump, che si è tenuta a Buckingham Palace. E Rose era seduta, a quanto pare, piuttosto vicina ai duchi di Cambridge. Allora non si credette che questo fosse il segno che andava tutto bene, perché Rose non indossava la fede nuziale. Alcuni mesi dopo, a dicembre del 2019, le coppie sono state di nuovo viste insieme a una messa presso la chiesa di San Mary Magdalene a Sandringham. Secondo il Tutler, Rose e suo marito hanno parlato poi con i reali e la conversazione è parsa amichevole. L'intero gruppo rideva. Nel gennaio del 2020 pare che David e Rose siano stati persino invitati ai festeggiamenti per il compleanno di Kate. Forse è stato questo che, per diverso tempo, ha spento i pettegolezzi sulla presunta relazione tra William e Rose. Almeno fino a luglio 2022, quando l'account Twitter di Gossip De Moi ha riportato un blind item, cioè un pettegolezzo anonimo, che recitava. La relazione extra coniugale di questo royal britannico è un segreto noto a tutti a Londra e tra il jet set aristocratico. Se ne parla ovunque nei parti e nelle redazioni. A un recente parte editoriale mi è stato detto che la vera ragione dell'affaire è l'amore del royal per il pegging, una pratica che la moglie è troppo conservatrice per voler attuare. La moglie non se la prende per le amanti e di fatti preferisce che suo marito soddisfi le sue fantasie altrove, almeno fino a che la cosa non diventa troppo emotiva, come è invece successo con l'ultima donna. Su Twitter, Prince of Pegging va in trend insieme al nome di William, anche se esiste più di un principe nella famiglia reale e soprattutto questo è un blind item. Ovvero chiunque può inventarsi una storia del genere e mandarla al sito senza avere alcuna prova. Che cosa rende però credibile e succosa questa diceria? La sensazione è che Kate sia troppo perfetta per essere vera. Non sbaglia mai e al pubblico piace l'idea che in realtà sia quel tipo di moglie che, a porte chiuse, si piega ai capricci di un marito fino a quel momento ritenuto troppo noioso per generare del vero gossip. Nel periodo successivo la famiglia reale cerca di andare avanti come se nulla fosse, però non anche a smentire alla loro maniera, con gesti concreti e piccoli dettagli che vengono per la maggior parte ignorati perché sono troppo sottili per arrivare nel loro significato al grande pubblico. Ad esempio nel giugno del 2022 a Pippa Middleton, sorella di Kate, nasce una figlia. Pippa decide di chiamarla Rosa. Non proprio una cosa che farebbe una sorella se sapesse che questo è il nome dell'amante del cognato. Possibile quindi che siano tutte falsità? Così sembra. Alcuni autori reali hanno cercato di informarsi. Robert Lacey, per esempio, ha intervistato Giles Coren, che ha riconfermato di non saperne nulla. L'autrice royal Tina Brown ha una sua ipotesi su come siano nate queste voci. Per lei è stata la vecchia guardia dell'aristocrazia del Norfolk a venirse fuori con questi pettegolezzi, ma perché loro stessi nella loro gioventù erano piuttosto incestuosi con i loro affaire. E non riuscivano proprio a concepire come si potesse essere amici di un vicino senza andarci a letto. Ma tornando ai gesti del royal, forse uno dei più significativi è quello che fa Re Carlo nel marzo del 2023, quando nomina il marito di Rosa, David, l'ordine waiting, l'equivalente della dama di compagnia della regina. David poi è presente all'incoronazione di Re Carlo nel maggio del 2023, così come sua moglie Rosa. È importante ricordare che per Carlo Kate è una nuora amatissima con cui va molto d'accordo, non le farebbe mai un torto. Al tempo io stessa ipotizzai che magari c'entrasse più Camilla, ma diciamo che non conoscevo ancora bene l'intera vicenda. Come ulteriore segnale, il secondo figlio del marchese di Chamblee, Oliver, viene scelto come paggetto del re, nonostante ci fosse una marea di ragazzini titolati e adatti al ruolo. Ad agosto del 2023 Kate partecipa al Autumn Festival, proprio nella tenuta dei Chamleys. E chi appare in questa foto rubata con lei? Quello di spalle è il marchese David e quella dietro Kate sembra proprio Rose. Un altro tentativo da parte di Kate di segnalare che non c'era un grammo di verità nel rumor su William e Rose? Forse, ma lo fa sempre e solo disseminando indizi per non dare mai l'impressione di agire per rispondere alle illazioni. In effetti anche la tempistica non coincide con lo scopo di farla vedere a chi crede che il marito la tradisca. Sono passati diversi mesi dalla recrudescenza dei pettegolezzi sul suo matrimonio ed è possibile che la principessa stesse cercando solamente di agire come se nulla fosse frequentando chi frequentava prima a dispetto di quello che ne pensa la gente. E così siamo arrivati quasi ai nostri giorni in marzo 2024. Non era uscito alcun nuovo dettaglio su Rose e William, il gossip su loro due era praticamente morto, quasi sepolto, quasi. Poi Kate si è ammalata questo gennaio e si è detto che sarebbe stata fuori dalle scene almeno fino a Pasqua. A inizio marzo William commette un errore fatale. Manca alla commemorazione della morte di Costantino, suo lontano parente, un evento a cui aveva programmato di essere presente. Cita ragioni personali per l'assenza e di fronte al totale silenzio di Kensington Palace sulle condizioni di Kate, il web è percorso prima della preoccupazione, con tanta gente che si chiede se qualcosa non va con Kate, poi dalle prime speculazioni. Perché William non spiega di che ragioni personali si tratta? Perché anche lui deve avvolgere tutto nel mistero? Oggi sappiamo che quello fu il giorno in cui William venne informato della diagnosi della moglie, ma al tempo il web ne era all'oscuro. Ecco, vi giuro che l'ho visto accadere con i miei occhi, da diciamo osservatrice reale. La gente ha cominciato a chiedersi che fine avesse fatto Kate. E fin qui. Poi però qualcuno ha buttato lì l'ipotesi che William in realtà la stesse tenendo zitta apposta. E per quale motivo si è chiesto qualcun altro? Risposta. Magari come è successo a Lady Diana, Kate in realtà sta cercando di uscire dalla gabbia e vuole divorziare. E perché vorrebbe divorziare? Hanno a quel punto chiesto altre persone. L'unico motivo che è venuto in mente a tanti in quanto perfetto complemento di una storia da telenovela è l'affare con Rose. La convinzione poi che Kate volesse scappare è venuta proprio dagli americani che si erano concentrati sulla famiglia reale solo quando si era parlato di Lady Diana e poi di Harry e Meghan. Entrambe spose che si erano sentite vessate dalla royal family. Hanno quindi fatto due più due mancando completamente di capire il contesto. Capite quindi? Di questa donna di Rose Hambury non si parlava da due anni. Non c'era stata alcuna novità di rilievo, alcun nuovo dettaglio su questa presunta relazione. Rose era semplicemente una tipa che veniva citata di tanto in tanto negli articoli su William e Kate per fare gossip. E d'improvviso invece nei racconti della gente William in realtà continua a vedere Rose anche ora e per questo Kate non sopporta più di rimanere sposata con lui e vuole divorziare. Siccome l'ho visto accadere ve lo confermo non è stata la stampa la fonte di tutta questa faccenda. Prima ne ha parlato esclusivamente la gente nei social. Poi per dovere di cronaca e perché a quel punto avrebbe generato visualizzazioni sono tornati a parlarne anche i giornali ma senza aggiungere alcun nuovo dettaglio, senza parlare neppure di supposte nuove fonti che ne sapevano qualcosa di più magari, no no, si sono limitati a raccontare le voci che correvano sul web. L'ultimo capitolo di questa assurda vicenda vede il comico Stephen Colbert scherzare sulla relazione tra William e Rose nel suo programma americano. Colbert si è limitato a riportare i rumor che si erano diffusi nel 2019 e ovviamente il web, soprattutto americano, l'ha preso come una fonte che confermava la vicenda, come se lui personalmente ne sapesse qualcosa di più o avesse detto qualcosa di nuovo. Per farvi capire chi è che sparla principalmente di Kate e William, chi li vuole vedere come una coppia in crisi, ecco, su X un utente che ha come foto del profilo la foto di Meghan Markle ha scritto, il gatto è fuori dal sacco, Stephen Colbert ha ufficialmente rivelato al mondo che il principe William ha avuto una relazione con Rose Hambury e non era così, ma il tweet ha ricevuto migliaia di condivisioni. Colbert infatti non ha confermato niente, si è solo unito al trend senza aggiungere nulla. Questa sarà una delle tante gocce che hanno fatto traboccare il vaso di Rose Hambury che a quanto pare si è rivolta a uno studio legale e ha diffidato Stephen Colbert dal fare ancora il suo nome. Per ora siamo giunti alla fine di questa vicenda intricata che è stata momentaneamente accantonata dopo la rivelazione sul cancro di Kate. Ma è triste, state sicuri che anche dopo che la principessa ritornerà in pubblico serena accanto al marito, ogni qualvolta ci sarà il minimo sentore di un problema tra lei e William, anche tra molti anni, il pubblico tirerà di nuovo fuori questa faccenda. Perché? Credo che seguendo la timeline di questa storia e vedendo chi ha diffuso per primo le voci possiate voi stessi ipotizzare la risposta. Vi lascio con le immagini dell'account Instagram di Oton Hall gestito da Rose. Non so voi ma se c'è una cosa che questa donna ha è la classe. Non immaginavo che l'avrei trovata nemmeno in parte simpatica considerando la tipologia. Nobile, snob, altolocata, una ragazza che si è sposata con uno di vent'anni più grande apparentemente per diventare marchesa. Ma l'account è pieno di foto meravigliose che trasmettono quiete. Certo, sarà dovuto anche allo splendore del luogo ma mi colpisce quanto poco Rose parli di sé, limitandosi a mettere pochissime foto di se stessa tra le molte altre. Si percepisce nel suo modo di fare un rispetto per i luoghi che custodisce insieme al marito. Viene prima Oton Halla, prima la sua storia, poi la storia della famiglia del marito, poi lui e infine lei. E questo, da chi non è nata marchesa ma lo è diventata, si può solo apprezzare. Se seguite il mio canale saprete che non sono affatto abituata a questo modo di fare così discreto e pacato da parte di una persona che è entrata a far parte di una famiglia nobile. E non ho altro da dire, però ne vi aspetto nei commenti. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, spammatelo in ogni dove, parlatene con le amiche, mettete mi piace, commentatelo per far capire all'algoritmo che è di interesse. Magari finalmente chi è segretamente convinto che William abbia tradito Kate fa un po' di chiarezza nella propria testa su cosa è davvero accaduto. Per tirare fuori le informazioni che vi ho dato in questo video ho fatto un enorme lavoro di ricerca, qualche fonte ve la metto nella descrizione del video. Vi aspetto nei commenti e vi ringrazio di avermi dedicato il vostro tempo. Alla prossima!